Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video io sono Gamer, seguo sempre il mio canale GamerZrottorosestm oggi mi sto installando Granny proveremo a vedere un video su Granny e poi proveremo a buggarla un video minore di 15 minuti sarà quindi lasciate i like perché oggi farò un vero gioco su Granny cercheremo di scappare entro 15 minuti credo che non ci riusciremo almeno di trovare le maggior parte delle cose quindi ragazzi vediamoci questo video dell'inizio allora qui ovviamente il video mi sto vedendo giustiamo così tanti secondi la mia intro dura troppo qui è quando incominci ecco questa è la nonna che sta ancora nel garage ancora nel garage va appena va a terra eccola qua guardate io ho paura di vedermi questo video ecco vi spaventate il gioco è pericoloso Granny ovviamente ragazzi se la provate in modalità extreme morite subito c'è caricato ah già ok quindi andiamo facciamo nega già se la scaccia sempre nega e ora poi ah ok 2 minuti devo entrare forse in difficoltà easy ci la facciamo ok non normale easy per adesso è meglio incominciare con una modalità molto semplice e noi di incominciare con le modalità così mettiamo la nostra telecamera qui per essere più sicuri io ormai sono abituato a vedere qua se vedono giorno 1 allora raga mi raccomanda possiamo buggarla non è difficile easy quindi proveremo tutto quanto le modalità tranne in extreme allora aspettiamo ovviamente che la nonna si svegli abbiamo messo questa cosa qui andiamoci qua nell'angolo proprio dalla parete del letto guardiamo la porta non ci abbassiamo guardiamo la porta dritti aspettiamo nonna preparare il piatto caldo allora la porta è questa in seppia già buggata raga già buggata ok quindi abbiamo buggata in easy proviamo in normale e in prima sono morta appena ho sentito questa pubblicità paura difficoltà normale ok ragazzi in extreme non la facciamo perché poi si vede tutto scuro è troppo veloce quindi non credo la facciamo soltanto in normale per vedere che poi ragazzi io con la nonna buggata dopo questo dopo che abbiamo finito tutto in easy normal è accoso è hard vi farò uno spoiler in hard di quanti serratori ci sono sulla porta aspettiamo la nonna qui è più veloce quindi dovrebbe venire più in fredda faccio col pollice ok e vai è difficile io sono abituato molto a buggarle in easy ora perché l'abbiamo fatto i pavimenti qua scricchionano io la metto qua vicino dove sta circola aspettiamola così la prossima volta se circola eccola sto vedendo chi sta prendendo la porta faccio i nidi mi faccio soltanto lo spoiler di nidi ma mi stavo perdendo spaventare ci vuoi appena muori aiuto lo so di più no 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 io non mi faccio fregatosi io lo faccio mesi guardate ora che faccio mi sveglio così impostazione vado in menu sono svegliato facciamo comprare tutte le cose impostazioni ma in menu ah un cane persona interessante poi vi faccio tutto quanto lo spoiler in che cosa c'è i nisi sperando bene vabbè abbiamo un paio di nisi semplice mi stavo mi stavo dimenticando pensavo che dovevo andare là a farvi subito lo spoiler aspettiamola qui raga se moriamo al primo dettaglio io sto già tremando mi sto allenando ok raga l'abbiamo pagata mi sta fuori spaventato però chiudiamo un attimo la porta per essere più sicuri ok allora spoiler ha messo due assi di legno ci serve e ci serve il martello poi ci servono le pliers che sarebbero le gesoie la master key e la padlock se non c'è niente nel microondo non gioco e va bene raga abbiamo fatto insomma tutto quanto quello che ci serviva per oggi abbiamo fatto che va a riuscire a bug le nonna per farvi tutto quanto lo spoiler di cosa c'è sulla porta ragazzi lasciate like oggi farò un altro video lasciate un like se vedete al canale attivate anche la campanella e le notifiche per questo video è tutto ci vediamo in un prossimo video dal vostro gamer007 out ciao a tutti Grazie.